Cosa si dice, caspita, si dice Io A sbrica Qui Blur Stanza preoccupante Preferisco un cazzo di Una forma di casu marzo nel culo Stanza preoccupante Diletta ci chiede Non quella famosa, ahimè Qualcosa riguardo la tua carriera su YouTube Cose non fatte oppure frasi che ora come ora Preferiresti non aver detto Ciao Giamma Sta lì a dirvi tutto Hai mai avuto paura di essere tagliato fuori Da qualcuno per il tuo carattere Cioè il fatto di non avere peli sulla lingua Sono tagliato fuori da mezzo a YouTube Italia Il bello però comunque è di persone come noi E poi alla fine molto spesso si ritrovano circondate da persone uguali Ma cos'è? Questo telefono porco Dio Prossima domanda Ma che ci vada stanghiamo una vecchia e le facciamo la borsa Bello avere persone belle che ti fanno cose belle Come reagisci quando incontri youtubers criticati da te alle fiere? Madonna E la loro madre troia puttana di merda Se ne pensi della reputazione che ti sei creato come king delle bestemmie Porco Dio Porco Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio di bambini del cazzo E mi sembra veramente di giocare con i favigili dell'MV2 moderno Porco Dio Porco Dio Ma non ce ne frega un cazzo Lagga 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 e lagga Andiamo sul canale di Lion Gamers Nooo E la Marga E' tutto Ciao